Buonasera a tutti e a tutte, sono Pietro, animatore segno del progetto Policoro e membro dei giovani di Taranto. L'agoraicologia e imprese, in particolare a business di cui io faccio parte, si è proposta dopo Taranto un processo sia per quanto riguarda le imprese sulla produzione della sostenibilità delle piccole imprese locali e della comprensione degli indici ESG, sia un processo di sensibilizzazione al voto col portafoglio per quanto riguarda le comunità locali. Questi processi hanno due obiettivi, il primo è quello di sensibilizzare ovviamente a un consumo più critico e sostenibile le comunità locali che sono il centro di questo processo e sono protagonisti, sia quello di mettere in risalto nuovamente l'importanza della produzione al chilometro zero e soprattutto di portare in risalto i prodotti delle piccole imprese locali e territoriali che spesso vennero messi in secondo piano rispetto alle grandi produzioni e alle multinazionali. Come lo si vuole fare? Sicuramente con delle piattaforme e soprattutto mettendosi in rete anche con le entità, le situazioni di cui questo processo già lo hanno iniziato e affinché i territori diventano dei gruppi di acquisto solidali anche in partenato con i comuni e con la realtà diocesane.